Siamo con Marico Rosato, segretario nazionale di ANA OGL, che nei giorni scorsi, domenica per la precisione, è stata in udienza dal Papa. Come mai questa scelta e anche l'emozione dell'evento? È stata una scelta motivata dall'esigenza di sensibilizzare il mondo della Chiesa attraverso l'autorevolezza del Papa per la necessità che si riaprano al più presto i grandi momenti di feste religiose con i quali si celebrano i Santi, le Madonne in tutta l'Italia. È un patrimonio della nostra cultura, della nostra identità, ma sono anche fattori di grande coinvolgimento economico, perché questo è un settore che coinvolge circa 300 mila soggetti, tra gli ambulanti, gli operatori delle luminarie, quelli che organizzano i concerti, i fochisti, le bande musicali. Insomma, c'è tutto un mondo attorno a questi eventi che noi non definiamo semplicemente feste o sacre, le chiamiamo proprio feste religiose, perché hanno una connotazione religiosa, che nascono da una celebrazione religiosa di devozione che spinge milioni di fedeli a partecipare a questi grandi eventi che si svolgono in tutta l'Italia e che purtroppo da un anno e mezzo sono fermi per via della pandemia, c'è questo mondo che era fermo. Quindi noi abbiamo voluto far raggiungere al Papa una sorta di implorazione, facendogli sapere che eravamo presenti in piazza, che avremmo fatto vivere a piazza San Pietro come è stato un piccolo momento come se si svolgesse a piazza San Pietro in piccolo una festa religiosa. E questo è accaduto perché noi abbiamo coinvolto operatori che hanno portato e realizzato la cupeta oppure hanno portato e distribuito gratuitamente a piazza a piazza San Pietro i prodotti biscotti di Soriano piuttosto che i prodotti tipici della Calabria e della Puglia, del Salento. E poi dal Salento è venuto un gruppo di ballerini della Fizzica. Voi immaginate che tutto ciò è accaduto domenica nella piazza più importante del mondo. dove tutti si sono meravigliati che ciò si sia potuto organizzare, ma è stato organizzato in piena condivisione con le autorità del Vaticano e con quelle della Polizia. Ora il Papa ci ha donato una grande emozione perché dopo l'Angelus, noi sappiamo, lui rivolge alcune considerazioni sui temi dell'attualità ed ha salutato la nostra associazione, ci ha ringraziato per i doni perché gli avevamo fatto sapere che avremmo consegnato dei doni a lui perché degustasse simbolicamente queste cose di cui abbiamo parlato prima, i prodotti da cui provenivano gli ambulanti e poi ha fatto un apprezzamento rivolto a quei ragazzi che ballavano la Fizzica. Cose con una semplicità, come le dice lui, che ci hanno davvero sbalordito e dato una grande emozione indescrivibile perché non era scontato, noi non pensavamo che il Papa giungesse a salutarci dalla finestra da cui c'era l'Angelus, è accaduto e questo è un fatto importante perché può essere un motivo di incoraggiamento ai tanti che organizzano le feste religiose perché se anche il Papa ha rivolto un'attenzione a questo mondo può darsi che si muova qualcosa. Che bella emozione, permettimi di farti un'ultima domanda, quando pensate o sperate che si possa riprendere con queste feste e quindi con tutto ciò che ci gira attorno? Guarda, ufficialmente sta accadendo che proprio in queste ore la Camera sta modificando il decreto per le aperture e stabilirà che dal 15 giugno anche le feste, le sagre all'aria aperto possano essere svolte. Poi c'è bisogno del coraggio, dell'impegno perché nel rispetto delle linee guida stabilite dalle regioni si possono svolgere le fiere, le feste, le sagre e questi grandi appuntamenti dell'Italia che fanno parte del nostro patrimonio, della nostra cultura e della nostra tradizione. Noi di questo parleremo anche venerdì, avrò un incontro con l'Arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ho ringraziato già per la sua vicinanza e parleremo anche di questo perché sono tanti gli appuntamenti delle feste religiose in provincia e nel Basso Lazio. Noi facciamo un in bocca al lupo a tutti gli ambulanti e tutto il settore che gira attorno le fiere e le sagre e grazie per la disponibilità a Marico Rosato a risentirci magari per la ripresa. Con vero piacere, grazie a voi dell'intervista.